Altre sono a giacere, altre stanno erce. Sotto ciascuna uscivano due grandali. Se il maestro, ansando come un lasso. La via è lunga, il calmino è malvagio. Lasciò qui il loco vuoto. Tanto chi vidi delle cose belle. Quel 1.288, Fulco Portinari inaugurava il primo ospedale della città di Firenze, della Toscana, probabilmente dell'Italia intera e stiamo tornando a rivedere le stelle.